Lecce, riteniamo gravissima e inaccettabile la scelta del Ministero dell'Ambiente di concedere un nuovo parere positivo, il secondo in un mese, all'istanza di prospezioni petrolifere con la tecnica dell'ERG un allargo del capo di Leuca. Così in una nota Ernesto Abaterusso, Presidente Gruppo Consiliare Articolo 1, MDP Regione Puglia. È plennesima dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, continua, il Governo non ha alcun rispetto per la nostra Regione, avendo più a cuore gli interessi delle multinazionali a tutto discapito di quelli dei cittadini, dei territori, dell'ambiente. Mi piacerebbe, prosegue, tanto sapere cosa ne pensa oggi la Vice Ministro Bellanova di questo nuovo via libera da parte del Ministero. Non è stata forse lei, qualche settimana fa, a rassicurare i Salentini annunciando che non ci sarebbe stata alcuna attività a largo delle nostre coste senza il parere del gruppo tecnico da lei promosso? Aperte virgolette. Non vorremmo, aggiunge, che anche in questo caso, come spesso avviene, le parole di un alto esponente del Governo, siano parole al vento, o, peggio ancora, che l'ennesimo via libera da parte del Ministero sia un modo vile per far pagare a caro prezzo alla nostra Regione, impegnata da tempo in una battaglia a difesa del mare, la disobbedienza per avere anteposto gli sforzi a favore dell'efficientamento energetico, dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'economia greana agli interessi delle multinazionali. Nui di articolo 1 Chiarisce, crediamo che mettere a repentaglio il paesaggio, il mare e due settori vitali per l'economia regionale come il turismo, e la pesca sia un atto scelerato contro il quale la Puglia deve continuare a dire no.